Il Tam Tam sui social spinge l'appello dei fratelli della stazione dritto al cuore dei foggiani, campioni di solidarietà. Servono coperte, maglioni, piumoni e ogni altro bene che possa aiutare a fronteggiare il freddo. I senza fissa dimora non possono rimanere alla diaccio in queste ore. Scatta per primo il piano emergenza freddo di Caritas e associazioni. Sono proprio i fratelli della stazione, i volontari, a girare tra i senza tetto per portare genere di conforto e informarli sui dormitori aperti. Un'opera difficile, convincere molti di loro a lasciare la zona ferrovia. Questa mattina anche l'assessorato alle politiche sociali del Comune di Foggia si è attivato. La circoscrizione alle mie spalle a Rione Candelaro resterà aperta per il ritiro di coperte e indumenti destinati ai senza fissa dimora per combattere il freddo. Sarà aperto questa sera anche un dormitorio alle cosiddette piastre. Abbiamo allestito nella palestra che di fronte al centro di Urno, alle piastre di via Candelaro, un punto d'emergenza che potrà ricevere 20 o più persone, in modo che possono stare al caldo in questo periodo di enorme freddo. Vi siete accordati anche con la Caritas e le associazioni? No, noi ci siamo accordati con la Caritas soltanto perché è la Caritas che poi gestisce già il dormitorio della chiesa Sant'Alfonso di Liguori. Per cui adesso li chiamerò, ho già parlato con il Presidente della Caritas da Rocco Scotellaro, adesso li chiamerò e comunque daremo loro questo posto in più per poter ricevere persone in più chiaramente. La solidarietà dei cittadini l'ha vista per le coperte, per gli indumenti? Penso proprio che la vedremo, non mancherà perché in genere i cittadini quando vengono sollecitati rispondono in maniera eccezionale. Per cui il punto di raccolta è alla circoscrizione Candelaro, chi può portare più moni, coperte o comunque qualcosa che serve per la prima necessità per queste persone, noi li ringraziamo in anticipo. Padre, sono stati aumentati i posti letto nel dormitorio qui? Stiamo cercando, perché probabilmente noi teniamo 27 posti e aggiungerne altri anche un pochettino, però per la circostanza abbiamo chiesto alla protezione civile se ci danno delle brandine per il modo che questa sera possiamo aumentare anche in periodo di emergenza, anche nei corridoi, insomma, comunque è meglio nei corridoi, anche se non sono magari riscaldate, però sempre stiamo in un ambiente chiuso. Servono coperte, indumenti? Tutto serve, però insomma riusciamo, non c'è problema, è più difficile trovare le brandine. Si riesce a intercettarli senza fissa di mora a farli venire qui piuttosto che farli stare al freddo? Ci sta qualcuno che rifiuta, e questo tu sai le problematiche sapete quali sono, no? Quindi ci sta qualcuno che rifiuta, ieri mi ha telefonato uno, un vicino di uno che sta dormendo per la strada, il quale ha detto sì, farò andare alla stazione, no, lo dovete venire a prendere voi, scusate, ma devo andare alla stazione, là c'è il pullman, quindi a volte ci sta anche questo qua. Però in genere tutti quanti chiedono e vengono dei corsi.